Salvatore Geratano, nei giorni scorsi abbiamo assistito a questa inaugurazione del busto di Pio La Torre all'Università di Palermo nell'ambito delle commemorazioni per il 35esimo anniversario dell'uccisione di La Torre. Abbiamo scoperto che l'autore è lei, uno studente di Accademia delle Belle Arti. Intanto com'è nata l'idea di fare questo busto? Esatto, c'è stato un bando indetto dal centro studio operativo Pio La Torre che era stato lanciato all'interno dell'Accademia delle Belle Arti al quale potevano soltanto partecipare gli studenti iscritti al corso di scultura, sia triennio che biennio. Quindi ho scelto di partecipare a questo concorso e questo concorso prevedeva la realizzazione della scultura, del modellato, già a grandezza naturale. Quindi tanti ragazzi abbiamo fatto questo busto, ognuno con delle caratteristiche che è inerente al proprio percorso, alla propria formazione artistica. A febbraio poi la commissione che era rappresentata dal presidente del centro, Lomonaco, i studenti, il docente dell'Accademia, il direttore dell'Accademia hanno scelto tra i vari busti che sono stati presentati dai ragazzi il mio, che è stato quello che più ha colpito la commissione. E da qui appunto tutto il procedimento che è dal modellato in argilla, un procedimento molto particolare che sarebbe poi la fusione della cera persa, è stato fatto in bronzo, fuso appunto a Mazzara, nella fontina di Mazzara, ed è stato fatto in bronzo che poi è quello che appunto vediamo adesso che è ubicato all'interno della facoltà di giurisprudenza. Che valore ha per Salvatore Geradano come persona questo riconoscimento? Oltre che come artista naturalmente. Per me è un grandissimo valore perché comunque sono arrivato a ciò con tanta umiltà, con le mie mani veramente e innanzitutto un riconoscimento e un grande onore è stato incontrare il Presidente della Repubblica e per me è stata una grande emozione. Io sono originario di Lucca Sicula ma abito a Sciacca, da tanto tempo che sono a Sciacca. Ringrazio proprio tantissimo l'affetto dei miei concittadini sia lucchesi che di Sciacca che hanno sui social mi hanno fatto tantissimi complimenti. Poi si è chiuso praticamente anche un ciclo, un cerchio con questa cosa perché nel 1960, al 27 settembre, quando è stato ucciso dalla mafia a Lucca Sicula, Paolo Buongiorno, che era un sindacalista del Partito Comunista Italiano, Piola Torre era presente ai funerali. Quindi Piola Torre, che è venuta a commemorare un mio concittadino e io da lucchese mi ritrovo ad aver fatto un busto commemorativo a Priota e per me è stata comunque una gioia, un cerchio che si chiude, quindi talvolta la storia ci dà e ci ridà indietro delle soddisfazioni comunque importanti, sì, questo sì.